E' dedicata ai 50 anni della Fiera Antiquaria la lancia d'oro della 136esima edizione della giostra del Saracino in programma per sabato 23 giugno. La parte superiore della lancia è stata realizzata come sempre dal maestro intagliatore Francesco Conti ed è impreziosita anche da oggetti di pregio storico ricercati tra i banchi della manifestazione. Ho trovato degli elementi evocativi e simbolici dove ho inserito oggetti di provato nell'arco degli anni alla Fiera e poi è venuta questa figurazione sopra abbastanza lineare, astratta o cubista come è stato detto prima che sia una lancia molto gradevole. Vittorio Angini invece è arricchito con tre dipinti ad olio e la parte centrale ispirati ovviamente al mondo della Fiera e i grandi personaggi della città, ritratti Giorgio Vasari, il fondatore della manifestazione Ivan Bruschi ed uno scorcio della Fiera. Sono un appassionato di queste, insomma di antiquariato e piace girare per le bancherelle, poi mi sembrava giusto rappresentare il Bruschi perché è stato l'inventore della Fiera Antiquaria, così anche il Vasari perché è il Vasari per Arezzo insomma e poi la Fiera adesso credo che sia titolata a lui. Dunque una lancia particolarmente significativa che celebra i 50 anni dalla prima edizione della Fiera che si è tenuta in Piazza Grande il 2 giugno 1968. Il centro storico di Arezzo, in particolare Piazza Grande, conosceva una situazione di marginalizzazione e quindi la città attraverso i suoi vari esponenti e un apposito comitato sorto per valorizzare Piazza Grande si pose il problema di vivacizzare e di creare delle iniziative che potessero riportare l'antico centro cittadino al centro dell'attenzione sia commerciale sia di altro genere. Attraverso passaggi successivi maturò l'idea di prima di creare una mostra mercato del mobile antico annuale in Piazza Grande e poi quella di una fiera antiquaria attraverso Bancarelle in piazza da svolgere ed è uno degli elementi del suo successo la prima domenica di ogni mese.